Buongiorno a tutti, cielo grigio, piove, sfidiamo anche le intemperie, occhiale scaramantico ricaricato e al suo posto, occhiali sempre accesi anche con la pioggia e andiamo a proiettarci verso la sfida col Parma, anche se bisogna ancora dire qualcosa sulla sfida contro il Borussia Dortmund qualche commento che non ho condiviso, soprattutto quando si dice che l'Inter ha vittoria sofferta, quasi ha fatto fatica, insomma 2-0 rigore sbagliato da Rotauro Martinez, Andanovic ha fatto 2-3 parate, quindi voglio capire dove arrivano tutte queste difficoltà con un Inter che ha tenuto il panino del gioco, si è fatta un po' schiacciare poi nella ripresa, però anche non ho visto tutti questi miracoli di Andanovic a parte questo, le copertine non potevano che essere, altrimenti sono tutte per Sebastiano Esposito, però adesso piedi per terra non mettiamogli troppa pressione, lasciamogli il tempo di fare tutta la sua esperienza, non chiarichiamolo troppo anche se c'è da dire, insomma, che Sebastiano Esposito ha fatto tornare delle emozioni che non si vedevano da tanto tempo a San Siro, dal suo ingresso in campo, tutti insieme a lui, il suo primo stop che ha provocato stupore e ammirazione, applausi, almeazza poi quel cost to cost, quel contropiede in cui Ummes, non un ragazzino ma uno che è stato campione del mondo, non è riuscito a fermarla, ha dovuto fargli fallo da rigore la sua esultanza incredibile di cui sia un po' anche, che anche lui ha ammesso che forse non avrebbe dovuto farla prima del rigore, però era troppo importante questo battesimo nella Champions dei grandi 17 anni, 133 giorni, solo Beppe Bergomi ha esordito in Coppa Campioni più giovane in questa Champions, è Sebastiano Esposito come in Europa League l'anno scorso il più giovane nerazzurro ad essere entrato in campo e adesso ci aspettiamo di vederlo titolare con il Parma sabato per fare il suo esordio così anche in campionato e permettergli di fare altra esperienza e quindi anche ribadiamo meglio Esposito di Ibra, in questo momento assolutamente sì, poi per il futuro, anche perché Sanchez dovrebbe rientrare ancora forse prima di quanto ci si aspetta ma questo Esposito merita sicuramente di giocare e prendendo Ibraimovic avrebbe ancora meno possibilità invece l'abbiamo visto, merita di avere minuti preziosi, merita adesso di giocare dal primo minuto vedremo quale scelte farà Conte che insomma è abbastanza in emergenza dal punto di vista della formazione perché Sensi non è ancora pronto, esami strumentali effettuati l'altro ieri hanno consigliato comunque di procedere con cautela niente Parma, niente Brescia, probabilmente si rivedrà in panchina settimana prossima vedremo, problemi anche per De Vrij, per Vessino che non recupererà in tempo De Vrij ha un po' di pubalgia quindi il consiglio forse adesso è di fargli tirare un po' il fiato però anche Ranocchia il suo sostituto nel centro della difesa 3 non sta bene e potrebbe cambiare tutto Conte mettendo Godin centrale con bastoni e Skriniar Sabato, problemi a centrocampo, anche qui tanta stanchezza, qualcuno dovrebbe tirare il fiato dopo tutte queste partite ravvicinate Brozovic sempre insieme ad Andanovic, l'unico sempre titolare abbiamo visto entrare per la prima volta in campo Borca Valero a partita finita, sì però adesso forse avrà anche lui le sue occasioni con Gagliardini-Barella poi, mi hanno detto, Vessino ancora non ha recuperato in tempo Lazzaro, punto di domanda il re di vivo Candreva dovrebbe giocare ancora lui sulla fascia destra, a sinistra Biraghi potrebbe dare un po' il cambio ad Asamoah come è avvenuto anche a partita in corso contro il Parma e poi là davanti, insomma, Lukaku è uscito zoppicando Lautaro continua a segnare quindi un Lautaro esposito potrebbe essere la coppia antiparma, senza dimenticare Politano che è sceso nelle gerarchie di Conte non è piaciuto come atteggiamento a Sassuolo non ha toccato il campo contro il Borussia Dortmund però anche lui è un'alternativa da tenere presente vedremo appunto se potrà giocare contro il Parma facciamo un attimo anche una mini rassegna stampa per leggere insieme a voi i giornali, i titoli delle pagine dell'Inter questa è un po' la novità che volevo proporvi se vi piace fatemelo sapere Gazzetta dello Sport, l'oro di Antonio l'Inter scopre l'aumento di capitale esplosi, rivalutati, rigenerati così il tecnico ha plasmato i suoi Candreva noi ripartiti da zero tutti quei giocatori che erano un po' spariti dai radar che faticavano con Spalletti Candreva su tutti rivalutati da Antonio Conte abbiamo visto il gol di Candreva si parla anche di Lautaro Martinez di questa sua frecciata Luciano Spalletti la frase in cui ha detto che l'anno scorso aveva avuto poche possibilità di giocare penso però solo si riferisse all'inizio di stagione quando doveva ancora inserirsi, carburare poi c'era quell'Icardi che non voleva un'altra punta al suo fianco non voleva dividere l'aria di rigore poi nel finale di stagione ha preso proprio il posto di Icardi quindi anche questa puntura da rivedere come dicevamo poi si parla anche delle dichiarazioni di Andrea Agnelli che ha cercato di colpire un po' Antonio Conte nel 2012 noi sei mesi senza tecnico e poi una pagina alla stellina casa esposito Sebastiano, la stellina dei record è matura ai piedi per terra figlio d'arte la favola parte da Castellamare di Stabia passa per Brescia e sboccia a Milano lo voleva il Paris Saint Germain e il più giovane interista in Europa League e Champions ora aspetta la Serie A si racconta un po' la storia di Sebastiano Esposito cresciuto nel club dove ha mostro i primi passi anche Donna Rumma a Castellamare di Stabia figlio d'arte, suo padre calciatore anche il nonno il fratello gioca al Chievo bellissima la loro foto che hanno fatto nel parcheggio del Meazza la famiglia che per scaramanzia a parte del fratello non era a San Siro perché aveva paura che non esordisse andiamo anche al Corriere dello Sport la stoccata di Agnelli a Conte e poi Mourinho e Conte gli specialoni quelli che danno di più che riescono a diventare una cosa sola con il loro club Moratti chiamò il portoghese per spingere i nerazzurri in Europa Fassuning e Marotta hanno scelto Antonio per spezzare l'egemonia Juve, mini turnover con il Parma anche Cor Sport come vi dicevo parla del centrocampo scontato Sabato, Conte che prova a gestire le forze Favre, tecnico del Borussia a rischio esonero si fa il nome di Mourinho e poi chiaramente si parla di Esposito Favola e rinnovo del contratto lo voleva il Paris Saint Germain a luglio, compirà 18 anni quindi ne ha ancora 17 la società vuole blindarlo subito farlo crescere con Conte firmerà un rinnovo fino al 2025 dovrebbe avere una nuova chance con il Parma ma poi vi faremo sapere tutto da Piano Gentile oggi è già giornata di vigilia alle 14.30 le parole di Antonio Conte poi tutte le novità la rifinitura in vista della sfida di domani non c'è tempo per riposare Sport Mediaset tutte le novità al TG alle ore 13 il nostro servizio da Piano Gentile su Italia 1 mi raccomando per tutte le ultime novità rinnovo di Esposito in cantiere così come quello di Lautaro Martinez qui arriva la pioggia cerchiamo di recuperare un attimo e di scappare concludendo però anche io vi leggerei il titolo del Corriere della Sera prima di salutarvi visto che c'è una bella pagina anche qui dedicata a Sebastiano Esposito dicevamo contratto anche per Lautaro Martinez forse non in questo mese ma a gennaio arriverà al suo procuratore per definire questo rinnovo di contratto sempre più importante per togliere anche quella clausola da 111 milioni rescissoria che non piace a nessuno che non piace a Marota soprattutto dopo gli ultimi 5 gol del Toro Corriere della Sera talenti spazio alla foto di Sebastiano Esposito l'Inter protegge il ragazza un contratto da 100 mila euro la Champions il mio sogno esordio record da 16 anni di Esposito Conte ci crede liceo sportivo piedi per terra e due fratelli calciatori quello del Chievo come abbiamo detto è due anni più grande anche lui ha giocato nel settore giovanile dell'Inter mediano mentre c'è anche un fratello più piccolo 15 anni Francesco Pio che gioca nelle giovanili nerazzurre anche lui molto forte una dinastia quella degli Esposito e noi ci aspettiamo adesso di vederlo esordire se l'è meritato sabato contro il Parma anche in campionato senza mettergli troppa pressione però merita adesso di fare tutta la sua esperienza e di crescere ancora di più mi raccomando quindi condividete il video sempre con i vostri commenti i vostri like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto gli occhiali ce li abbiamo piove ma noi siamo sempre qui e voi mi raccomando sempre sintonizzati